42 anni fa, da quella pollina, è iniziato un movimento spirituale molto poco. Io mi sento me stessa, io mi sento felice di essere qua, spensierata. Stasera ero sempre davanti a me 5-6 mila persone che partecipano alla messa in maniera molto proposta. Quando il luogo è di gracia, è un luogo sacro. Indagine ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8. Grazie a tutti.